Cartoon Club ormai è un momento storico per la nostra città, è un appuntamento dedicato al cinema d'animazione, ai fumetti, ai games e quest'anno ha un programma veramente molto ampio. Intanto saremo in due luoghi della città, Marina Centro, Piazzale e Fellini con la mostra Mercato del Fumetto e la Cosplay Convention mentre tutta la parte del festival, le proiezioni, gli eventi si trasferiscono nel cuore della città. Abbiamo degli appuntamenti proprio nella piazza Cavour, nelle serate di martedì, giovedì e domenica. Si tratta di appuntamenti legati alla musica, al fumetto, ai 40 anni di Goldrick con i grandi robottoni ed anche a un concerto molto simpatico con le musiche dei cartoni animati. Abbiamo anche tutta la parte delle proiezioni e delle cortometraggi in concorso all'interno del meraviglioso Cinema Fulgor che ci ospita quest'anno. Abbiamo anche una mostra molto originale, diffusa nei negozi del Centro Storico che hanno aderito all'iniziativa, curata da Sabrina Foschini ed è collegata al tema che ha questa manifestazione che è un netto no contro la violenza alle donne. Saremo anche in piazza nelle giornate dei mercatini, sia quello dei bambini che quello del venerdì con una meravigliosa esperienza legata alle principesse Disney che avranno anche loro una loro mostra all'interno della Sala Panfili. I film di lungometraggio saranno al Chiostro degli Agostiniani. Lunedì, mercoledì e venerdì ci troverete lì.